Hola chicos, bienvenidos al corso di spagnolo. Ciao ragazzi, benvenuti al corso di spagnolo. Mi chiamo Julia e nel video di oggi vorrei insegnarvi alcune delle frasi più importanti che vi possono essere utili quando vi presentate a qualcuno in spagnolo per la prima volta o quando magari già conoscete qualcuno e volete aggiungere qualche informazione su di voi. Quindi che cosa ho fatto? Ho preparato alcune diapositive, alcune slide dove riassumo i saluti iniziali, saluti finali, provando poi ve le leggerò ad alta voce facendovi capire in quale momento dovrebbe essere detta quella frase, se all'inizio della conversazione, durante e mano a mano vedrete che aggiungiamo sempre più informazioni che ci riguardano. Però ormai lo sapete che prima di iniziare di solito vi chiedo di iscrivervi a questo canale di YouTube se ancora non l'avete fatto e vi invito sempre a venire su Instagram alla pagina SculptoU underscore Milan dove l'apprendimento continua nelle storie, nei post e dove avete modo magari di conoscervi un po' meglio, di scrivermi se magari avete bisogno di qualcosa, se avete delle curiosità, quindi mi trovate anche su Instagram. E soprattutto vi ricordo che se davvero volete dare una svolta al vostro spagnolo, vi lascio in descrizione a questo video, insieme al link per accedere alla pagina Instagram e alla pagina Facebook se non avete Instagram, i miei videocorsi completi di spagnolo che vi accompagnano passo dopo passo alla scoperta della lingua spagnola. Potete seguirli quando volete, quante volte volete e hanno un accesso illimitato e vi accompagnano dal livello base al livello pre-intermedio. E adesso è tutto pronto per vedere quali sono le frasi che secondo me sono fondamentali da sapere se volete presentarvi a qualcuno in spagnolo. Sapete ormai che mi trovate anche qui sotto, questa mania di protagonismo eccessiva nei vostri confronti, semplicemente perché magari le slide, le diapositive sono un pochettino più interattive in questo modo e vediamo insieme appunto quali sono queste frasi fatidiche da sapere. Intanto salutare, presentarsi è la descrizione quindi il titolo di questo argomento, salutare, per salutare si può salutare con il classico hola, che è quello che vi dico io no? Hola chicos, hola. Hola, vi ricordo che l'h è muta e quindi si legge proprio hola e basta. Poi ovviamente possiamo avere diversi saluti a seconda del momento del giorno in cui ci troviamo che possono essere buenos dias, buongiorno, buenas tardes che significa sia buon pomeriggio che buonasera perché sapete che in spagnolo hanno solo la tarde e se non lo sapete ve lo dico io. La tarde significa sia pomeriggio che sera e infine dalle 21 mi hanno specificato in poi dicono già buenas noches che è anche un modo per congedarsi. Buenas noches, in italiano noi abbiamo buonanotte, quando conosciamo qualcuno non è che diciamo buonanotte, entriamo non so al bar, buonanotte. Noi abbiamo il buonanotte per salutare qualcuno quando si va via. in spagna invece no, buenas noches è anche quando si entra magari in un ristorante dopo le nove o in un bar o dove volete potete tranquillamente dire buenas noches. E poi semplicemente più in generale, è molto colloquiale però va benissimo perché gli spagnoli sono molto alla mano, potete tranquillamente dire buenas, buenas va bene in qualsiasi momento del giorno, però buenos dias è maschile, gli altri due sono femminili. Quindi hola è il ciao, buenos dias buongiorno, buenas tardes buon pomeriggio buonasera, buenas noches buonanotte ma senso buonasera e poi buenas come dire ciao in generale è un altro modo per dire ciao. Poi che cosa abbiamo? Dopo i saluti ovviamente dobbiamo iniziare a presentarci e quindi dire il proprio nome come si fa. Si può dire in diversi modi a vostra scelta. Io ve li metto qua poi vi faccio vedere come si completano. Possiamo dire io meiamo, io meiamo e poi dite il vostro nome, oppure io soy, io sono, quindi io meiamo e io mi chiamo, io soy, io sono, oppure mi nombre es, il mio nome è e poi quando l'altra persona ci dice il proprio nome potremmo rispondere dicendo è incantato se sono un uomo o è incantata se sono una donna come nel mio caso de conoscerte, è incantato de conoscerte, piacere di conoscerti o anche semplicemente è incantata così evitiamo di fare errori se magari siete all'inizio o anche semplicemente mucho gusto, mucho gusto è molto piacere. Quindi possiamo dire io, facciamo un esempio qua, io mi chiamo Giulia oppure io soy Maria o mi nombre es Pablo e poi è incantato, è incantato de conoscerte o anche solo è incantato, è incantata e poi mucho gusto come alternativa per dire che abbiamo avuto piacere di conoscere una persona nuova. Per quanto riguarda poi la propria origine, quindi dire da dove veniamo, possiamo sempre utilizzare il verbo essere, semplicemente soy e adesso vi dico cosa dovete dire dopo il soy, soide e adesso vi dico cosa dovete dire dopo il soy, vengo de o vivo in, per esempio soy de sarebbe l'ideale mettere un aggettivo di nazionalità un gentilizio vuol dire aggettivo di nazionalità, soy italiana, io soy italiana o soy italiano se sono un uomo soy de più per esempio un nome di la città, soy de Milan oppure vengo de Roma, vengo da Roma però vivo in Florencia, per esempio, no? Hacemos un ejemplo, io soy italiana vengo de Roma però vivo in Florencia quindi per esempio sono italiana vengo da Roma ma vivo a Firenze quindi in base anche a se vogliamo dire la nostra origine vogliamo dire dove viviamo in questo momento possiamo tranquillamente usare il verbo vivir, ok? proseguendo possiamo imparare a dire la nostra età sempre che ci vada se non ci va possiamo inventarla o possiamo schippare questa parte però per curiosità se volete imparare a dire la vostra età diremo tengo puntini puntini agnos oppure voglio a cumplir puntini puntini agnos che sto per compiere un tot di anni io ho messo la verità voglio a cumplir 29 agnos no, non è vero la prima è la verità ovvero tengo 34 agnos ho 34 anni oppure posso dire voglio a cumplir 29 agnos quindi sto per compiere 29 anni quindi la parola agnos in realtà è sempre espressa e il verbo è tener che vuol dire appunto avere tengo 34 agnos oppure voglio a cumplir 29 agnos quindi queste due modalità per indicare la nostra età per parlare dello studio e del lavoro quindi se stiamo studiando se stiamo lavorando possiamo indicare così possiamo dire queste sono anche frasi perfette per esempio di un colloquio di lavoro quindi anche in un ambiente formale e studio e diremo la cosa che stiamo studiando e la università de nell'università di e poi diremo il nome della città dell'università oppure possiamo dire tengo una licenziatura licenziatura significa una diploma o una laurea in questo caso tengo una licenziatura en gli ho messo mas l'assignatura l'assignatura è la materia quindi adesso poi vi faccio vedere la frase completa quindi ho una laurea in puntini puntini oppure estoi licenziato o licenziada quindi vista così sembra un falso amico non vuol dire che sono licenziato ma vuol dire che ho la licenza noi la parola licenza ce l'abbiamo in alcuni contesti in spagnolo la licenziatura appunto e star licenziato significa appunto avere la laurea essere laureati e sto licenziato en o sto licenziata femminino più dovremmo dire in che materia oppure se vogliamo dire direttamente la professione ancora il nostro amico classico soy più la professione o possiamo dire anche il verbo trabajar e si può dire altrettanto trabajo de più la professione o trabajo como e la professione quindi con le due preposizioni a vostra scelta andiamo a vedere nel dettaglio estudio lenguas en la università de Madrid por ejemplo quindi estudio lingue en la università di Madrid oppure tengo una licenziatura en ciencias mi volevo male ho fatto un sacco di cese tengo una licenziatura in ciencias quindi ho una laurea in scienze e sto licenziato en arte quindi ho ancora una volta sono laureato in arte ok soy vi ho messo apposta questa parola della psicologia perché la P davanti alla S non si legge quindi si dirà soy psicologo o soy psicologa quindi sono psicologo o psicologa oppure trabajo de professor o trabajo como profesor o nel mio caso trabajo de profesora o como profesora se invece vogliamo parlare di qualcosa di un po' più divertente che non sia solo lo studio e lavoro possiamo anche parlare con qualcuno e raccontargli o raccontarle le cose che ci piacciono fare quindi parlare dei propri gusti personali con quali espressioni col classico me gusta o me interesa al quale faremo seguire un sostantivo singolare o un verbo per esempio adesso vi faccio l'esempio dopo me gustan al plurale o me interessan più un sostantivo plurale per esempio me gusta el fútbol mi piace il calcio me interesa el fútbol o me gustan los deportes me interesan los deportes fútbol e il calcio deporte sono gli sport oppure come vi dicevo poco fa potevo anche dire me gusta più un verbo e quindi qua potevo aggiungere me gusta e studiar mi piace studiare non è vero però o me gusta salir con mis amigos uscire con i miei amici quindi il verbo gustar può anche essere seguito da un verbo proseguiamo con le frasi per provare a descriversi io proprio per aiutarvi anche a fare questa tipologia di frasi ho deciso che in descrizione al video vi aggiungerò degli aggettivi che potete utilizzare per descrivere voi stessi sia fisicamente che come carattere così ampliate anche un po' il vostro vocabolario non potevo metterveli tutti in queste slide perché sennò diventava un video lunghissimo però potete trovarli qui sotto con la traduzione così metterò quelli più importanti quindi mi raccomando scegliete quello che più fa per voi andiamo a vedere quali sono le frasi per descriversi abbiamo soy una persona sono una persona e a questo soy una persona dobbiamo far seguire un aggettivo al femminile perché la parola il sostantivo persona è femminile oppure diremo soy un ombre o un cico sono un uomo o un ragazzo più un aggettivo maschile o soy una mujer o una chica più l'aggettivo al femminile oppure semplicemente soy più l'aggettivo vediamolo nel concreto soy una persona avierta sono una persona aperta o soy un ombre un cico abierto a quel punto lo rendo maschile così come posso dire una cosa invece fisica soy una mujer o una chica alta non è il mio caso anzi avrei dovuto dire soy una mujer baja oppure posso dire semplicemente come vi ho detto già prima soy più l'aggettivo soy allegre sono allegra allegre tra l'altro è unisex sia per il maschile che per il femminile resta allegre soy allegre soy bajo o soy baja soy delgado magro o delgada magra eccetera quindi si può ovviamente utilizzare il verbo essere in tutti i casi per indicare una caratteristica fisica oppure per indicare un aspetto del nostro carattere proseguiamo con le frasi per congedarsi quindi sono le frasi con cui anche io mi potrei congedare da voi ma non abbiamo così fretta abbiamo ovviamente adiós che è anche la mia frase a volte parole a cambio in effetti non è sempre la stessa adiós non vuol dire addio ma vuol dire semplicemente arrivederci e loro hanno tenuto adiós per indicare appunto l'arrivederci e si usa tanto nei contesti formali come nei contesti informali dopo adiós abbiamo a sta pronto che significa a presto pronto vuol dire presto a sta luego uguale a tra poco sempre comunque quando rivediamo qualcuno sappiamo che lo rivedremo in un breve periodo in un breve periodo di tempo oppure possiamo dire a sta magnana che vuol dire a domani dopo questo a sta che significa appunto a in realtà significa fino la parola a sta però a sta magnana possiamo dire a domani così come posso dire a sta la prossima semana alla settimana prossima a sta e lunes ci vediamo lunedì a lunedì oppure possiamo aggiungere quello che vogliamo questi ovviamente sono solo degli esempi oppure possiamo salutare una persona dicendogli abbi cura di te prenditi cura di te anche per una persona che magari non sta bene in questo momento le potremo dire cuida te vuol dire abbi cura di te dal verbo cuidarse che appunto significa prendersi cura e poi la classica frase e spero volver a verte pronto spero di rivederti presto che va benissimo sia allo scritto che al parlato quindi spero volver a verte pronto quindi spero di tornare di rivederti volver a più l'infinito in spagnolo significa un'azione che ricorre quindi spero di rivederti presto in questo caso quindi secondo me queste sono le espressioni più comuni utilizzate in spagnolo per congedarsi ovvero per salutare quando si va via mi raccomando non salutate per andare via con hola perché è solo ed esclusivamente per quando incontriamo qualcuno quindi secondo me queste sono le espressioni più utili che si possono utilizzare in spagnolo quando conosciamo qualcuno quando già l'abbiamo conosciuto e magari vogliamo aggiungere qualche informazione su di noi magari se vi fa piacere anzi a me farebbe molto piacere leggere nei commenti una piccola presentazione di voi realistica se volete o anche inventata per mettere in pratica quello che avete imparato in questo video per provare a descrivervi perché in realtà come sapete solo la pratica ci aiuta in questo video non c'era un vero proprio esercizio ma ve lo chiedo adesso alla fine di questo video di scrivermi nei commenti una piccola descrizione di voi se vi fa piacere ripeto anche per privacy va benissimo una cosa inventata basta mettere il vostro nome salutarmi mettere il vostro nome dire la vostra età reale o fittizia la vostra professione va benissimo qualsiasi cosa purché appunto impariate un po' la struttura di come ci si presenta a qualcuno in spagnolo per questo video è tutto spero vi sia piaciuto vi aspetto su instagram alla pagina ascolto you underscore milan se non avete instagram poco male lo sapete che ci sono anche su facebook su telegram ci sono ovunque praticamente un incubo potete trovare tutti i riferimenti in descrizione a questo video altrimenti ci sono anche all'interno dei miei video corsi che vi lascio sempre il link in descrizione al video così potete andare a vedere in che cosa consistono sono perfetti per tutti coloro che vogliono affacciarsi allo spagnolo per la prima volta o che vogliono magari proseguire con il loro apprendimento arrivare fino ad un livello pre intermedio e quindi come sempre molti grazie e hasta luego hasta il prossimo video adios adios